Musica Immagino che tutti conosciate Davide Groppi Per me è una curiosità fantastica Quando mi hanno detto che c'era questa possibilità Ho detto sì sì, vado sicuramente io a cercare di presentarlo Di aiutarlo e di conoscere qualche cosa in più Perché la sua realtà mi ha sempre affascinato Prima parlavamo e gli ho detto Ma tu sei uscito fuori quasi come un maker Ti sei cataputtato in un mondo che era governato Come se fosse governato dalle sette sorelle In questo caso le sette sorelle dell'illuminazione Lui è entrato in punta di piedi Ma in punta di piedi scardinando praticamente tutto Cercando di fare E ha fatto, ha realizzato qualcosa di Veramente affascinante Ha giocato, gioca E giocherà sempre con la luce In una maniera colta In una maniera Veramente Ti prende per mano Ti fa vedere la luce Da un altro punto di vista Quindi secondo quello che ogni tanto mi capita di fare Anche al Politecnico E di parlare con i ragazzi È proprio questo Cercare di vedere con altri occhi Quello che già si conosce E lui riesce a farcelo fare Buongiorno ragazzi Grazie dell'invito La mia storia è una storia molto semplice Di un ragazzo Nel 1988 Io avevo 25 anni E ero, devo dire, particolarmente hippie Per cui decisi di curiosamente iniziare a inventare Costruire, vendere lampade A Piacenza nella mia città Dove vivo ancora adesso E quindi decisi di aprire un piccolissimo laboratorio Nel centro storico della mia città Era veramente piccolo perché erano, mi sembra, 25 metri quadrati Era una stanza di fatto Con una vetrina E quindi io gli facevo tutto Inventavo Mi procuravo i materiali che riuscivo a procurarmi Con pochissimi mezzi Perché poi io provengo da una famiglia normale Molto semplice Insomma Le prime lampade Adesso vi faccio vedere brevemente la storia Le prime lampade che ho preparato Erano lampade, come vedete, fatte con quello che trovavo Erano di chiaro stampo ready made Come si dice E in questo caso era una lampada fatta con degli imbuti Con dei tubi snodati da officina meccanica La mia formazione è tendenzialmente tecnica Anche se poi nel tempo ho sviluppato Una certa cultura, diciamo così, umanistica Che poi vedrete alla base del mio lavoro I mezzi, come vi dicevo, non ho pochissimi Quindi questa cosa, questa cosa Che era un'altra lampada Erano quasi delle tirature limitate Che io vendevo Grazie a questa vetrina che avevo sulla strada E dopo un po' Con delle fotografie che incollavo su dei cartoncini Io racconto un po' veramente quello che ho fatto Insomma, perché può essere così curioso Ho iniziato a girare soprattutto per il Nord Italia E a cercare di vendere quello che facevo Le tre cose che facevo Ai negozi di arredamento e di illuminazione Insomma Dall'88 fino al 94 Ho fatto molta fatica a vivere Perché facevo delle cose un po' strampalate, devo dire Per cui Ho tirato a campare, come si dice Finché poi nel 94 Nei miei peregrinaggi Con una prima forma di catalogo Che nel 94 Nel 94 avevo già 31 anni Avevo iniziato a stampare per la prima volta Ma che conteneva comunque pochissime lampade Io feci una lampada di carta Che era questa Che si chiamava Balù Perché in quel periodo In quel periodo io ebbi la fortuna di conoscere Uno dei miei, diciamo così, maestri Che è Ingo Maurer E che mi ha trasferito l'amore e la passione per la carta Come materiale per produrre una luce molto bella Molto affascinante Molto morbida E allora feci questa cosa semplicissima E in quel periodo cercavo di Diciamo così Frequentare un negozio Che purtroppo adesso non c'è più Che era in corso Venezia 14 Che era un negozio De Padova Che faceva capo Questo negozio faceva capo La signora Maddalena De Padova Che è mancata da poco Però io entravo ciclicamente in questo negozio Per cercare di far vedere le mie cose Ma non mi filavano molto Finché una mattina Curiosamente mi ricevette questa signora Che poi capì dopo che era la signora De Padova Inspiegabilmente decise di comprare 40 di queste lampade E di utilizzarle per allestire Il suo negozio In occasione di quel salone del mobile Quello per me è stato Quindi esattamente Sei anni dopo l'inizio Il vero inizio diciamo così Professionale della mia attività Perché in quel momento Ho avuto la possibilità In quell'occasione In quel salone del mobile Ho avuto la possibilità di conoscere un sacco Un sacco per me Un bel po' di gente Che faceva quel lavoro Non che cercava di fare quel lavoro E in particolare Conobbi un signore tedesco Che era un consulente personale della signora Che diciamo la consigliava per alcune scelte artistico commerciale Insomma un personaggio molto curioso Al quale sono molto affezionato E che mi fece conoscere diverse persone Innanzitutto mi permise di vendere le prime mie cose in Germania Ma poi l'anno successivo Mi fece conoscere Roberto Gavazzi Che era ed è ancora adesso L'amministratore delegato Presidente Insomma comunque il capo della Boffi Che è un'azienda molto importante Che produce cucine, bagni E adesso arredamente Che curiosamente Qualche anno fa ha acquisito De Padova Quindi i destini incrociati Sono tornati Roberto Mi ospitò nel 95 In quello che era il loro showroom In Corso Monforte E feci vedere alcune cose In realtà questa cosa Mi diede De Padova e Boffi La forza Il coraggio Di andare avanti Ma in realtà Fino alla fine degli anni 90 Non è successo praticamente nulla Quindi per dieci anni Ho iniziato sia a vendere alcune cose Ma in maniera molto elitaria E molto in punta di forchetta Come si dice Nel 99 Roberto Roberto Gavazzi Mi chiama per partecipare Insieme alla Boffi Alla fiera di Colonia Che era una fiera al tempo Molto importante Nel settore dell'arredamento A livello internazionale E io in quell'occasione Decido di cambiare Modo di fare luce E offro per la prima volta Delle soluzioni Che non erano Tanto lampade Ma erano degli strumenti Dei tools E questa cosa Piacque molto Alla Boffi Tanto che Decisero di metterne Alcuni modelli A catalogo E quello per me È stato il vero inizio Diciamo così Industriale Diciamo così Ero ancora da solo In quel periodo In quel momento In quell'occasione Si è unito a me Mio fratello Che lavora ancora con me Ed è responsabile commerciale E da lì è iniziata una storia Che ha portato questa azienda Adesso a essere Siamo in 25 persone Lavoriamo in tutto il mondo Sviluppiamo un giro d'affari Quest'anno credo di circa 10 milioni Di fatturato E siamo in crescita Notevole e molto forte E questa è un po' la storia Della Davide Groffi Insomma Utilizzando questi ingredienti Semplicità, leggerezza, emozione Invenzione Ho confezionato Tutti quelli che sono i progetti Che adesso costituiscono Il nostro catalogo Il mio catalogo È un catalogo Che è nato Ne parlavo prima Con l'architetto In una sorta di riserva indiana Io ho avuto la fortuna E la sfortuna Di vivere in una riserva indiana Nel senso Di non essere Condizionato O viziato O così rovinato Da tutto quello Che è il settore Sia da un punto di vista Merceologico Commerciale Sia da un punto di vista Proprio Come posso dire Di Di vita Non ho mai partecipato Alla vita Del design Nel senso Come si intende normalmente Insomma Le serate milanesi Quelle robe lì Non mi interessano proprio E quindi ho cercato Sempre di fare Con molta passione E autenticità Il mio lavoro Allora Il primo metodo Che utilizzo Per lavorare Che vi faccio vedere Riguarda I concetti spaziali I concetti spaziali Intesi come La possibilità Di lavorare Con gli stati fondamentali Della luce Nel mio punto di vista Esistono tre stati fondamentali Della luce Che sono La luce diretta La luce indiretta La luce diffusa Lavorando su questi temi Ho sviluppato tre episodi Tre lampade Tre progetti Il primo si chiama Nulla È una lampada Semplicissima Un piccolo buco Nel soffitto Che genera questa luce D'accento sul tavolo Molto Molto forte Molto Molto caravaggesca Come L'idea Era quello Di fare Una luce Ho sempre inseguito L'idea Di fare una luce Senza fonte Che è un po' Un'utopia Però Con questo progetto Ho cercato un po' Di avvicinarmi A quest'idea È nata per caso Questa cosa Perché noi in azienda Abbiamo una stanza Vuota Completamente cieca Che utilizziamo Per fare delle prove Di accensione Insomma E un mio collega Aveva staccato Una lampada Appesa Ed era rimasto Un forellino Nel soffitto Da cui entrava Una luce Molto flebile Dal vano Superiore Insomma E da lì È nata l'idea Di fare questa cosa Immediatamente Gli ho associato Il nome nulla Che è una parte Fondamentale Di questo progetto Come lo è Per tutti gli altri I miei progetti Cioè L'attività Di come si dice Di naming Dei progetti Per me È molto importante Provocatoriamente Alcune volte Dico che nascono Prima i nomi E quindi i significati Delle estetiche E poi Un'altra cosa Che mi viene da dire Su questo tipo Di progetto È tutto quello Che è l'aspetto Della rappresentazione E della comunicazione Quando ho fatto nulla Io ho pensato Che sarebbe stato Un progetto Molto pubblicato E poco venduto Invece È successo Esattamente il contrario È stato un grandissimo Successo commerciale È ancora un successo commerciale È pochissimo Pubblicato Perché Non c'è quello Che chiedono i giornalisti Insomma Non fa notizia Non c'è nulla Non c'è nulla Sì sì A nulla È stato assegnato Lo dico Per dovere di cronaca Il compasso d'oro Nel 2014 Ed è Per me È molto simpatico Perché tutto sommato Nulla rappresenta La negazione Del design È la sintesi È la sintesi Del contenuto Sì 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 Siamo stati bravi In questo caso Devo dire Commerciale Di marketing È una brutta parola Però Esiste Di questa Di questa Avventura Della nulla È proprio Questa fotografia Questa fotografia Che è stata Molto spontanea Perché abbiamo Fotografato esattamente Quello che era lì È stata una parte Importante Di tutto poi Il suo successo È bello Il racconto Cioè questo qui È quello che Adesso come Tutte le volte Ne parliamo Questo è lo storytelling Ma questo è lo storytelling Con la S maiuscola Perché poi Anche E questo è il bello Perché anche Continua La creazione E la genesi Della lampada Anche nel momento In cui viene Pensata La comunicazione Immaginate È una parte importante Molto importante Senza quella scrivania Che in fondo È stata quasi La genesi L'accorgersi Che c'era questa luce La scrivania La mette in evidenza Se non ci fosse stata La scrivania In questo posto Sì Ci sarebbe stata Un po' di luce Nella stanza Quasi Ma non avrebbe avuto Lo stesso significato Quelli della Unifor Sono impazziti Quando hanno visto La foto Con il less Loro Questo è Ecco branding Allora In questo caso La luce indiretta È quella che è Non la luce diretta Ovviamente In questo caso Mi trovavo Da diverso tempo A trafficare Con quelle che si chiamano Comunemente Le strip led Che esistono Da un sacco di tempo Ormai E così In maniera molto spontanea Mi è venuto in mente Di fare una cosa Che non aveva mai Fatto nessuno Che è semplicemente Quella di tirarla Da una parete all'altra Ed è nata Da questo progetto Che si chiama Infinito Che ha avuto E sta avendo Un successo Molto importante E che rappresenta Il secondo stato Fondamentale Della luce Che è quella Della luce indiretta E sviluppa E sviluppa questa luce Senza ombra A differenza Della nulla Che invece Fa un'ombra Profondissima Tutti questi progetti Nella mia testa Sono un chiaro Riferimento Diciamo così All'arte Di Lucio Fontana E di tutto Il movimento Spazialista Soprattutto italiano E poi L'ultimo stato Fondamentale Della luce È la luce diffusa Un'azienda americana Mi ha dato la possibilità Di utilizzare Un loro brevetto Che mi permette Di fare questi quadri In grafica Si dice al sangue Senza cornice Frameless È semplicemente Come se fosse Un quadro di luce Mai appeso Di un metro Per un metro E che fa questa luce Molto femminile Molto morbida È possibile Con un telecomando Regolarla Oppure Cambiare la luce Insomma È come se fosse Un quadro mai appeso Ecco Si chiama Pablo Insieme a un mio amico Abbiamo Enzo Calabrese Abbiamo rivisto Con occhi diversi Le canne da pesca E quindi Ripensando Alla canna da pesca In un altro modo E assegnandole Un'altra funzione È nata questa lampada Che si chiama Sampei Che è un omaggio A un protagonista Di cartoni animati Giapponesi Degli anni 80 Forse voi siete Un po' troppo giovani Ed è nata Questa cosa Che è l'idea Di fare una luce D'accento Però Utilizzando Un apparecchio mobile Adesso qui Non si vedono I cavi di alimentazione Perché Sono un mio vezzo Fotografico Però Questa è una lampada Che si può spostare E che permette Di fare questa luce D'accento A me la luce D'accento Piace moltissimo E la uso spesso Nei miei progetti Il terzo paradigma Che utilizzo Tutti i giorni È quello Che io chiamo Fatto a mano Mi piace molto Usare le mani Nel senso Di confezionamento E nel 2005 Mi è ritornata La voglia Di utilizzare La carta Ed è nata Questa serie Di lampade Che si chiama Moon Molto Riconosciute Da un punto Di vista commerciale Che praticamente cerca Di riprodurre La luce lunare Come effetto Incollando Vari strati Di carta giapponese Su queste scocche Di materiale plastico La particolarità Che ogni lampada È casualmente Confezionata E quindi Sono tutte diverse C'è una persona Dentro il nostro team Che fa praticamente Solo questo tipo Di lavoro Felicemente Poi queste lampade In realtà Raramente Vengono vendute In grandi numeri Ma Però Hanno Sempre qualcosa Per cui Strappano Un sorriso C'è una cosa Che io mi segno Tutte le volte Ma non mi ricordo A memoria Di Branzi Che a me piace Sempre ricordare Diceva Credo che un designer Debba essere In grado Di immaginare Ogni volta Un dono Una sorpresa Un sorriso Se non ci riesce È meglio che cambi mestiere Ecco per me Un po' quella roba qua Cioè Non necessariamente Ed è una cosa Che poi io associo A un altro mio maestro Che è Ingo Maurer Cioè La possibilità Che la luce È una materia Talmente viva E talmente bella Che può essere anche Utilizzata Per raccontare Una storia Semplicemente Per sorridere O per provocare Ha esordito dicendo Che non vi avrebbe Fatto una lezione Ma questa è meglio Di dieci lezioni Perché non so Se avete visto Avete sentito Alcune Alcuni approcci Che Davide ha Nella sua quotidianità La sua quotidianità Che è fatta Di un continuo Confronto e riferimento Con quello Che può arrivare Dall'esterno Per trasformarsi Poi in prodotti In progetti Cioè Da prendere Da mettere Nell'usaino In tutte le parti È semplicemente Un modo sedimentato Secolarizzato Anche per necessità Per vivere Che ho sviluppato Nel corso Di quasi ormai Trent'anni Di attività Il mio modo Di lavorare È un modo Diciamo così Per esaustione Cerco di avvicinarmi Alla verità Poco per volta E mi rendo conto Che un progetto È finito Quando In un certo modo Nella mia testa Ha raggiunto Un certo livello Di verità Questo si chiama Charles È un omaggio A Charles Darwin È il più piccolo Museo al mondo Della lampadina È la storia Della evoluzione Della lampadina Lampadina incandescenza Alogena Scarica A led Le lampadine Sono passive Spente E dietro Sono retroilluminate Da uno led Quindi l'idea Che il passato Illumina il futuro Questo si chiama 35 mm È una lampada Che è nata In occasione Di una festa Che noi dovevamo fare Per una rivista Molto famosa Nell'ex giardino zoologico Di Milano Mi piaceva Illuminare la serata Solo con la luce Di queste Di apposite È un misto Tra ironia E ready made Poi in realtà Non è stata fatta Questa cosa Però Era piaciuta molto L'idea Abbiamo deciso Di tenere la catalogo Si chiama 35 mm Ecco un'immagine Questa si chiama Film Ma che è la declinazione In linea Della 35 mm La possibilità Di raccontare Una storia Con la luce Attraverso queste Diapositive Retroilluminate E infine Per finire Per finire questa parte Del gioco Ironia Imu Imu è una lampada Da esterno Che a me piace Collocare Davanti agli ingressi Ho Le soglie In generale Ho gli ingressi Nella mia testa Hanno sempre Avuto un significato Attaicamente Affascinante Mi piace sempre Ricevere le persone Congedare le persone Sotto una bella luce Quanto il tuo lavoro La tua azienda Viene anche influenzata Dai Dai tuoi progetti Per ristoranti Per Hotellerie Per quello che ti viene chiesto Magari nel mondo Da progettare Cioè Quando ti chiedono Cosa ti chiedono Abbiamo bisogno di luce Abbiamo bisogno delle tue lampade Abbiamo bisogno Ecco Cosa ti chiedono Molte cose Molte soluzioni Che nel tempo Sono nate Sono nate per necessità Come dico io Cioè per la necessità Di risolvere un problema specifico Tutte queste serie Di Che io chiamo Luce dovunque Cioè che Che non fanno affidamento Ad un Impianto elettrico ideale Non dico progettato Ma neanche Pensato Alcune volte Ha generato Per necessità Delle soluzioni Questa è la sublimazione Proprio di questo pensiero Perché Con la batteria Siamo stati Tra i primissimi A fare Non le lampade batterie Dicevano già Ma fare lampade batterie Con un certo tipo di efficienza E con una certa E con un certo rigore La lampada è fatta in modo Che due persone Sedute una di fronte all'altro Si possono guardare Negli occhi Senza Senza avere in mezzo La lampada Lo dico perché Molti nostri concorrenti Ci hanno copiato E non hanno capito Questo aspetto fondamentale Ecco un'altra immagine Della tetta tetta Quest'anno Ho pensato A un'altra cosa Ho evoluto La tecnologia E ho pensato Di adottare Una nuova tecnologia Per le batterie E ho utilizzato Una nuova tecnologia Di batterie al litio Che ho pensato Di collocare Nella testa Allora facendo così Ho pensato Che lo stelo Potevo renderlo inutile Tra virgolette E per manifestare La sua inutilità L'ho fatto trasparente Ed è nata Questa lampada Che si chiama Flut Che stiamo iniziando Adesso a consegnare Piace molto Anche questa Per finire Vi faccio vedere Quello che io considero Diciamo così Il mio ideogramma Allora Da buon Emiliano C'è una luce Sul tavolo Perché come avete visto La luce sul tavolo E sulle soglie Per me è molto importante Poi c'è un orologio Che rappresenta il tempo Che per tutti noi È una parte fondamentale Diciamo così Del nostro vita Del nostro lavoro E poi una porta Che significa per me Il viaggio Che è una parte Che per me Viaggiare non vuol dire Necessariamente andare In Polinesi Ma portare via la testa Quindi comunque Molto importante E questa è un po' La sintesi Di quello che faccio Grazie Va bene La mia domanda Era sul supporto Narrativo Che hai detto Di dare ai progetti Perché soprattutto Quelli visti verso la fine Sono magari più evidenti Come mai sono stati creati Ma invece per gli altri Tra virgolette Meno Che si raccontano Da soli meno Com'è che questo processo Si riesce a unire Al produrre poi Un'idea Sì È un lavoro Che si fa Sulla collezione In senso generale Cioè come avete visto Ci sono delle parti Anche molto importanti Del nostro Diciamo così Catalogo Che sono A me non piace La parola tecnica Però Sono di servizio Dove la parte narrativa È difficile Da sostenere Da alimentare Perché sono semplicemente Magari dei prismi Dove quasi Si fa fatica A trovarne la paternità Ok Però E quindi Però quello che abbiamo Cercato E che sto cercando Di fare È Ok Di disegnare Delle lampade Ma prima di tutto Disegnare Un catalogo Chiamiamolo Che potrebbe anche Essere considerato Una grande lampada Ok E quindi Dove Dove dentro Ci sono episodi Di servizio Ci sono episodi Di ready made Ci sono episodi Di favola Questo è un po' Il pensiero Un'idea un po' Più olistica Del lavoro Ok Ma No Beh io Volevo chiederti Sul primo periodo I primi sei anni In cui Sei messo a fare Quel tipo di lampade Non eri ancora sicuro Di te Hai detto Sì Ma no Oltre i sei anni Ok Ok Però Però hai continuato Comunque per sei anni Sì Un punto di forchetta Dicevi A lavorare E a continuare a proporti Che Che cosa Qual è stata la molla A fare questa cosa Allora Sicuramente Da un punto di vista Personale Ero mosso Da una sorta di Cercate di non Fraintenderli Da una forma Di ambizione Diciamo sana Che mi Obbligava A non avere alternative E quindi Mi sentivo un po' Un musicista Come mi sento ancora adesso Un po' un musicista Che Io mi sento un po' Un cantautore Nel senso che scrive E canta le canzoni Che scrive Insomma E Al tempo Io non avevo alternative Non mi sentivo Di avere alternative Odiavo l'idea Di andare a fare Un'altra roba Dove andavo A lavorare In un'azienda Metalmeccanica O in banca Non ci stavo dentro Io proprio Non ci stavo dentro Come mentalità Insomma Quindi Piuttosto Avrei fatto Sarei andato avanti Con la mia vetrina In via Croce 25 Hai un consiglio Per noi Giovani designer A studiare Studiare Applicarsi Non mollare Esercitarsi Moltissimo Sperimentare Giocare E come dicevo All'inizio Penso che Una 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 Di molte Di molte cose Di molte storie È semplicemente Quello di insistere Cioè Io credo Credo nel talento Nel senso che Credo che ci siano persone Spontaneamente talentuose Ma credo anche Che buona parte Del talento Nasca dall'esercizio Cioè Dalla possibilità Di fare Continuamente E ossessivamente La stessa cosa Si diventa bravi Insomma In tutte In tutti gli ambiti Della vita Insomma Della vita